e buona prima ragazzi sono Tyri come vedete dal Magistro Impressione del sono qui nel suo video sempre su virtual manager quest'oggi vi andrò a presentare il 3421 di Ivan Juric che sta facendo al Torino che mi è stato chiesto da uno di voi non vado a citare il ragazzo che ha espresso questa richiesta perché non so se lui vuole essere nominato o meno comunque ci tengo comunque a ringraziarlo sempre per le belle parole che mi ha dedicato mi fa comunque molto piacere ricevere il vostro sostegno anche perché mi rendo conto che virtual manager è un gioco di nicchia e quindi non è semplice far apprezzare questa tipologia di videogioco in italia ma in generale in giro per il mondo che secondo me è un peccato perché è un gioco fatto veramente molto bene soprattutto per chi ama le tattiche come me prima di inoltrarci all'interno della tattica ci tengo inizialmente a ringraziare assoanalisti e juventibus.com che sono i due siti dove mi sono informato per quanto riguardava la tattica che ha utilizzato Juric perché non essendo onestamente un tifoso del torino anzi ut4juve quindi potete ben capire però non essendo un tifoso del torino io non ho mai guardato una partita di questa squadra quindi non sapevo onestamente come potesse giocare avevo una vaga idea perché comunque Juric ha fatto molto bene a quindi le basi erano quelle però è sempre meglio informarsi e ho utilizzato questi due siti su internet che sono stati molto dettagliati e ve li consiglio nel caso volete utilizzare delle tattiche o creare appunto delle tattiche su virtual manager loro sono molto preparati quindi ve li consiglio assolutamente in più se siete tifosi della juve vi consiglio assolutamente juventibus perché secondo me il miglior sito trasmettono live anche su youtube e su twitch quindi per rimanere aggiornati sul mondo della juve sono perfetti secondo me con ciò poche chiacchiere iniziamo a guardare le statistiche generali allora si può vedere dalla classifica che siamo arrivati quinti ma potremmo far meglio allo stesso tempo però potremmo fare anche peggio però la classifica la vediamo dopo a livello di statistiche dei calciatori abbiamo belotti come capocannoniere che ha fatto 20 gol chiaramente il torino non è una squadra che attualmente sta segnando tanti gol in campionato e questa è un po anche la ricreazione perché come vedete non è una squadra che segna particolarmente tanto tant'è che la differenza reti non è grossissima comunque belotti in 32 presenze la titolare tra l'assumento ha fatto 20 gol e due assist in più abbiamo come voto meglio più alto riccardo rodriguez che ha ottenuto 6,99 l'ho utilizzato principalmente come quinto a sinistra comunque in 33 presenza titolare 7 la sua entrata ha fatto anche 5 gol e 8 assist in più che ha fatto il maggior numero di assist è sempre riccardo rodriguez che ha ottenuto la miglior percentuale di passaggi completati e brem con il 98 per cento belotti è stato nominato 6 volte uomo partita quindi più di ogni altro giocatore della squadra in più singo e izo sono stati ammoniti 11 volte mentre voi voda e rincon sono stati spulsi con una volta a livello di classifica generale possiamo vedere che come campionato è stato abbastanza equilibrato non c'è stata una squadra che ha tirato lo strappo definitivo è andata a vincere il campionato a gonfie vele noi siamo arrivati purtroppo quinti a pari punti con la fiorentina abbiamo perso l'ultima contro la salernitana altrimenti eravamo in zona champions comunque già finire davanti a inter napoli atalanta a roma secondo me è un ottimo risultato considerando che è una tattica molto particolare ed essendo un modulo con la difesa 3 difficilmente funziona bene su football manager tranne i moduli specifici possiamo anche vedere che in 38 giornate di campionato ne abbiamo vinte 22 ne abbiamo pregiate 5 e ne abbiamo perse 11 abbiamo fatto 50 gol e ne abbiamo subiti 38 quindi la differenza reti è solo di 12 71 punti totali chiaramente il torino ha una determinata rosa quindi già se andate a utilizzare una squadra come l'atalanta potete ambire allo scudetto molto probabilmente perché ha una qualità tecnica che è sicuramente migliore però andando a vedere quanto eravamo quotati ovvero decimi noi siamo arrivati al primo slot di europa league potendo ambire anche alla champions quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro secondo me a livello di competizioni oltre a serie a avevamo solo la coppa italia siamo usciti subito al primo turno contro la lazio a livello di tattica è chiaramente un 3 4 2 1 ovviamente su football manager 21 non ci sono i braccietti difensivi quindi già se andate a replicare questa tattica su football manager 22 potrebbe uscirvi anche meglio perché il lavoro che fanno i difensori che stanno al fianco di bremer non sono facilmente replicabili all'interno di fm 21 perché il ruolo specifico non c'è in più ho avuto difficoltà a capire la posizione iniziale di praet perché basandomi sulle rights o comunque sulle analisi che ho trovato su internet avevo già in mente che brecalo che lo utilizzano al posto di verdi però siamo arrivati con la rosa un po contata per caratteristiche perché un giocatore che seguivo già in bundesliga partiva più sulla fascia per accentrarsi quindi una classica alla invertita praet al contrario non era un giocatore che stava lungo la fascia ma sarà più centrale quindi ho creato questo 3421 asimmetrico che secondo me rispecchia perfettamente quanto ha portato iurici al torino perché ho notato che nel corso delle partite l'area è riempita sempre da tanti giocatori e in più sulle fasce si creano i famosi triangolini tra centrocampista ala e stanno completo in questo caso che è un po il dogma di iurici che si è portato dietro anche da dalla juve di conte ad esempio partendo dal portiere abbiamo un portiere libero di supporto con contrasti più duri chiaramente la la tattica di iurice era life tende a marcare uomo su uomo facendo quasi sempre fallo per non farti ripartire giocare uomo su uomo su fm non è semplice da ricreare quindi a livello difensivo sono andata a mettere due difensori centrali che hanno il compito di marcatura e un difensore centrale con il compito di copertura perché tendenzialmente bremer è quello che sta più indietro rispetto agli altri due ma allo stesso tempo si deve anche alzare per pressare alto e impedire una ripartenza o comunque la sponda sull'attaccante della squadra avversaria il difensore centrale con i compiti di copertura ha come istruzione chiaramente quella di fare più pressing e contrasti più duri che sono le stesse istruzioni che hanno i due difensori centrali con i compiti di marcatura in più loro hanno anche il compito di fare più passaggi rischiosi perché solitamente i difensori centrali di iurice o la smistano sulle fasce oppure vogliono andare subito al centro per trovare poi con anche l'aiuto dei centrocampisti l'attaccante sulle fasce abbiamo due esterni completi che hanno il compito di attacco chiaramente sono giocatori che tendono a spingere sulla fascia e andare a fornire cross loro hanno quello di marcare un ruolo specifico per il quinto di sinistra è l'ala d'attacco di destra per il quinto di destra è chiaramente l'ala d'attacco di sinistra in più hanno il compito di crossare sul secondo palo entrambi perché se ci fate caso i cross dei fluidificanti di iurice sono sempre ingrizzati verso quella zona lì ho scelto un esterno completo rispetto a un fluidificante perché come dico sempre la differenza sottile che c'è tra due ruoli è che l'esterno completo tende a giocare di più con la squadra piuttosto che individualmente in mezzo al campo fatto fatica a decifrare che ruoli potesse andare a mettere ho optato alla fine per un centrocampista centrale con i compiti di supporto e un centrocampista di quantità con i compiti di supporto poi se voi pensate che esistono ruoli che sono più simili alla filosofia di iurice potete farmelo sapere nei commenti tranquillamente il centrocampista centrale con i compiti di supporto ha come istruzioni quella di correre più rischi tenere la posizione, fare più pressing, fare contrasti più duri e marcatura stretta il centrocampista di quantità invece ha come istruzioni quella di fare più pressing, fare contrasti più duri e marcatura stretta tendenzialmente dei due vedevo che si staccava più Lukic rispetto a Mandragora per supportare la manovra offensiva quindi a Mandragora ho optato per farli mantenere la posizione lì davanti abbiamo un'ala invertita di supporto sulla sinistra che ha come istruzioni quella di fare più pressing, marcatura stretta e marcare un ruolo specifico ovvero un difensore centrale mentre al centro abbiamo un centrocampista offensivo con i compiti di attacco che ha come istruzioni quella di fare più pressing, quella di fare contrasti più duri e quella di marcare un ruolo specifico che ha il centrocampista centrale di solito lui si piazza sul vertice basso quindi se la squadra avversaria ha un mediano potete optare per marcare un ruolo specifico il mediano piuttosto che il centrocampista centrale lì davanti alla fine sono giunto alla conclusione di mettere un attaccante che pressa con i compiti d'attacco perché comunque Juric è uno che si basa molto sul pressing e sull'intensità quindi pensavo che questo ruolo potesse essere quello più azzeccato l'unica soluzione che ha in più è quella di fare più tiri come mentalità abbiamo offensiva in fase di possessa abbiamo un'ampiezza d'attacco standard si parte parata dalla difesa cercando le sovrapposizioni sulle fasce stile di passaggi poco più corti con un ritmo di gioco più alto si fanno cross di prima e libertà di inventare con più disciplina ovviamente solitamente nei moduli a tra e dietro funziona meglio il più disciplina piuttosto che più creatività perché sono tattiche che richiedono determinate giocate specifiche in più come ritmo di gioco potevo chiaramente mettere altissimo però alla fine le giocate che fanno i giocatori sono ben precise non sono forzate quindi ho optato per il più alto come ritmo di gioco in fase di transizione abbiamo fare pressing a tutto campo contropiede e dismistare sulle fasce in fase di non possessa abbiamo una linea difensiva più alta con una linea di pressing più alta si fa pressing estremo impedendo i passaggi corrido al portiere e si fanno chiaramente contrasti aggressivi ora ovviamente è un modulo che tende a giocare specie dietro uomo su uomo quindi il vantaggio è che se riuscite a prendere palla subito potete andare avanti in attacco velocemente di contro è chiaramente se vi salta la marcatura e vi trovano triangolazioni veloci con il difensore che vi va a vuoto chiaramente si creano i buchi dietro è molto semplice da intuire come concetto vi mostro un po' il calendario per capire l'andazzo bene o male a ottobre abbiamo fatto due vittorie e due sconfitte a novembre non abbiamo ottenuto sconfitte dicembre è andato abbastanza bene così come gennaio febbraio due vittorie un pareggio e una sconfitta marzo due vittorie due sconfitte e un pareggio aprile quattro vittorie e una sconfitta a maggio siamo arrivati non voglio usare alibi però avevano la rosa anche un po' corta quindi abbiamo perso tre partite che ci sono costate la zona champions vi mostro un po' di highlights parto magari dal 3-2 contro il Cagliari così andiamo a vedere un po' di gol fatti e un po' di gol subiti quindi tendenzialmente è una squadra che tendeva a vincere una parita con un gol di scarto in questo caso Linetti trova in profondità molto bene Belotti che riesce a trovare subito il gol al sedicesimo minuto andiamo a fare il secondo gol sempre con Linetti lì in mezzo che la va a smistare centralmente ancora da Belotti che si inserisce sempre bene e trova questa volta il palo opposto il terzo gol arriva dalla fascia sinistra con Rodriguez che la va a mettere in rete sul primo pallo compice anche la deviazione di Zappa poi arriva la reazione del Cagliari nei minuti finali con Rincon che lascia lì la palla la cross in mezzo di Torregrossa e Keita Balde la insacca meglio poi Nandez sempre sulla fascia la mette in mezzo Keita tira Milinkovinsavice la respinge male e Mayer è lì per il tap in vincente un'altra partita che vi posso mostrare è sempre un 3-2 però questa volta abbiamo perso che è contro l'Inter in questo caso il primo gol dell'Inter arriva sulla fascia con D'Ambrosio che la scarica a Vidal cross in mezzo Correa si libera benissimo dalla marcatura e trova il gol poi arriva la nostra reazione con la palla che gira molto bene per i via centrali O'Laina trova l'imbucata piazza la scarica a Berotti che trova l'1-1 arriva subito la reazione dell'Inter con Vecino che la passa a Dzeko fa l'1-2 con Sanchez e poi si ritrova davanti al portiere per segnare noi troviamo il gol del 2-2 con Rincon che la mette in mezzo Belotti la va a insaccare e poi l'Inter risponde ancora una volta subito con Kolarov che lungo la fascia la scarica sul primo palo Sanchez va ad attaccare molto meno la profondità e trova il gol del 3-2 vi mostro infine il 2-1 fatto contro il Venezia noi andiamo in vantaggio al 14esimo minuto con Singo che sulla fascia la scarica a Andragora la smista molto bene sulla fascia a postero e Dregat trova un gran gol poi arriva il gol del Venezia con Sigurdsson che la scarica ad Aps lasciato libero sulla fascia e va a scaricare in maniera violenta sul primo palo il gol dell'1-1 poi brecca lo smista sulla fascia ed era in mezzo Verdi stacca molto bene di testa e trova una grande incornata con ciò questo era il modulo io spero che i miei sforzi siano stati apprezzati anche perché non è semplice ricreare tattiche di allenatori in real life perché non sempre sono facilmente gestibili nelle tattiche di Football Manager perché mancano secondo me degli spunti interessanti come poteva essere ad esempio la Juve di Piero dell'anno scorso che difendeva 4 attaccava 3 e già questo difficilmente riesce a ricrearlo però arriveranno anche sviluppi migliori anche perché Sports Interactive non è gigante come brand con ciò io spero che il video vi sia piaciuto se è stato così lasciate un bel like, commentate, condividete e non ci vediamo nel prossimo video se provate la tattica fatemi sapere come vi siete trovati nomeate lei, bella regà